Si chiama Progetto Scoglietto e nasce con la firma del protocollo d'intesa siglato oggi dal Comune di Portoferraio insieme a Greenpeace, Circolo Subacqueo Teseo Tesei, Lega Navale Italiana e Pelago Sfera. Un nuovo accordo, una nuova firma tra tutti i soggetti partecipanti a questo importante progetto che non è soltanto un modo per creare degli ormeggi intelligenti ed ecosostenibili, ecocompatibili, ma è anche un modo per mettere al centro di un percorso di sperimentazione un'area marina di grandissimo interesse naturalistico per Portoferraio e potenzialmente anche di grandissimo interesse turistico perché è poi un'area molto frequentata da diving, sub e quant'altro. In questo modo si attiva, da una parte si attivano gli strumenti per evitare che chiunque vada lì, oggetti l'ancora e quindi arile, praterie di posidone e faccia dei danni al fondale marino e si garantisce anche una maggiore sicurezza per le persone che sono sott'acqua. Dall'altra parte si crea un meccanismo di monitoraggio e controllo, ci sarà un vero e proprio regolamento per la gestione di questa area sostanzialmente e con delle figure che collaboreranno a livello di volontariato a quest'operazione che chiameremo Sentinelle del Mare, ma anche con chi studierà dal punto di vista scientifico l'evoluzione dell'ecosistema grazie a queste misure che si vanno ad adottare. È un progetto pilota a livello nazionale. Il protocollo punta infatti alla realizzazione di una infrastruttura costituita da campi ormeggio ecosostenibili, gli unici in grado di garantire la fruibilità del luogo insieme alla tutela dell'ambiente circostante. La tipologia di ancore che verranno utilizzate sarà del tipo manta rei, simili a quelle già sperimentate nella zona di Morcone. La sicurezza delle persone da una parte e dall'altra parte evitare che un uso improprio del mare possa danneggiare un ecosistema così delicato e così importante. Tra l'altro questo corrisponde a un'idea generale di organizzazione anche degli ormeggi lungo le linee di costa perché noi abbiamo già avviato una riflessione su alcune calette particolarmente delicate del Comune di Portoferraio dove in prospettiva pensiamo di mettere degli ormeggi ecocompatibili, cosiddette boi intelligenti, insomma sistemi analoghi e dall'altra parte di impedire l'ormeggio selvaggio. Il progetto scoglietto per l'estate 2011 deve partire perché ora sono pronti tutti gli atti, il Comune tra l'altro già da tempo ha messo a disposizione la somma necessaria per realizzare questo intervento, quindi credo che noi per l'estate 2011 possiamo essere operativi. Grazie. Grazie.